4 4 è tutto nelle tue mani rimane vivo rimane vivo mi muocavo in arrivo alla nuova zona di santa all'esame dovevo uscire il mio cuore per tu guido io ma dove vai che ti boh ma muori su non cessione ottimo lavoro salti in corso prezzi delle stazioni di acquisto ritoccati grazie perché mi ha dato l'assi perché mi ha dato l'assi ostile in discesa nell'area occhio in alto prendetevi il vostro educaggio prendetevi il vostro educaggio prendetevi il vostro educaggio una parola vedo movimenti attenzione chi se fai la patina? scendi prendi i soldi e basta mettiti le piastre che cazzo uguale Emma va stai immaginando via saldi terminati prezzi tornati alla normalità bersaglio a terra mi hanno colpito mi hanno colpito cazzo è fuori dalla zona è meglio che ti brighi è una merda lì adesso aspetta un attimo va Dove sono? Il primo e meno ha fatto 6 kill Ha fatto 6 kill sto stronzo Si col quad però Col quad